4.000 posti di lavoro qualificati nei prossimi 10 anni, la possibilità di far crescere nuove aziende che operino nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie alpine, nell'agroalimentare avanzato, la disponibilità di aiuti e strumenti per consentire la crescita e l'innovazione all'interno delle piccole e medie aziende che già oggi esistono nel nostro territorio e sono uno dei settori più importanti della nostra economia. Sono questi gli obiettivi del Parco Tecnologico per il quale stanno per iniziare i lavori. Il Parco Tecnologico è uno strumento che abbiamo pensato e voluto per mettere in sicurezza il futuro dell'Alto Adige, posti di lavoro qualificati, la crescita e la nascita di nuove imprese e il sostegno all'economia esistente.